artur schopenhauer il mondo come volontà da il mondo come volontà e rappresentazione il senso tanto cercato di questo mondo che mi sta davanti come mia rappresentazione non si potrebbe mai raggiungere se l'indagatore fosse soltanto un puro soggetto conoscente una testa alata d'angelo senza corpo ma egli in questo mondo ha le proprie radici vi si trova come individuo ossia il suo conoscere che è condizione dell'esistenza del mondo intero in quanto rappresentazione avviene per conseguenza mediante un corpo le cui sensazioni sono per l'intelletto il punto di partenza dell'intuizione di questo mondo per il puro soggetto della conoscenza come tale questo corpo è una rappresentazione come tutte le altre un oggetto fra oggetti i suoi movimenti le sue azioni non sono sotto questo rispetto conosciuti da lui in maniera diversa dalle modificazioni di tutti gli altri oggetti intuiti e gli sarebbero ugualmente strani e incomprensibili ma le cose non stanno così al soggetto conoscente che appare come individuo è data la parola dell'enigma e questa parola è volontà questa e questa soltanto gli dà la chiave per spiegare la propria fenomenicità gli rivela il senso gli manifesta l'intimo congegno del suo essere del suo agire dei suoi movimenti al soggetto della conoscenza che per la sua identità con il proprio corpo ci si presenta come individuo questo corpo è dato in due modi ben diversi è dato come rappresentazione nell'intuizione dell'intelletto come oggetto tra gli oggetti sottomesso alle leggi di questi ma è dato nello stesso tempo anche in modo tutto diverso ossia come quella cosa che ciascuno conosce direttamente e che è espressa dalla parola volontà ogni vero atto della sua volontà e immediatamente e necessariamente anche un movimento del suo corpo egli non può volere veramente il suo atto senza accorgersi insieme che esso appare come un movimento del corpo l'atto volitivo e l'azione del corpo non sono due diversi stati conosciuti come oggetti che il vincolo della causalità colleghi non stanno tra loro nella relazione di cause ed effetti ma sono un tutto unico soltanto dati in due modi diversi nell'uno direttamente e nell'altro mediante l'intuizione dell'intelletto chiamo perciò il corpo da questo punto di vista l'obiettità della volontà ogni vero autentico immediato atto volitivo e subito e direttamente anche un visibile atto del corpo e viceversa ogni azione del corpo e subito e direttamente anche azione sulla volontà come tale si chiama dolore se ripugna la volontà si chiama benessere piacere se ad essa conforme grazie a tutti